incredibile è caduto il cellulare dalla mano e ho attivato la telecamera per far vedere il tutto stavo attendendo un programma in tv informazioni non disponibili caffè chimbo sapore giusto sapore quello gusto è caduto il pezzo guarda si è aperto il cellulare in due parti ecco la cover questo video a dimostrare quando il mio cellulare sia avanzatissimo e più lo guardo e più bello l'interno la batteria la micro sim la micro nano sim già pensate queste cose aspetta incredibile devo mettermi gli occhiali da sole sono le 3 26 di notte qui tutto tazzo qui tutto dorme ma io no bellissimo questo video improvviso così caduto cellulare tac video proprio guarda adesso ecco qua mangio la mela ho le mele buonissime gialle qui sono residui della minestra ho tentato di fare una crema speciale di minestra ma non mi è riuscita poi ho le mie cose da mangiare no c'è proprio wow wow video 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 è buono monta cuore leggero buonissimo buonissimo un'unica la camera collezione per il fattorino che bonta ok, ok, perfetto good bye, good bye, perfetto good bye adesso sigarette le gambelle alpino bug eccole qua buonissime sigarette caffè modalità bippissima gli occhiali da sole in marca eh eh